La caserma Paolini da sabato prossimo acquisterà una nuova immagine. È un importante complesso architettonico urbanistico che ha una storia significativa e identitaria per questa città. L'amministrazione comunale, soprattutto in questo secondo mandato, sta lavorando alacremente per divenire a una valorizzazione e a un'acquisizione del bene. E questo avviene tramite un dialogo serratissimo con l'attuale proprietà, che è il demanio regionale, con la quale stiamo facendo dei step intermedi e quello di oggi è uno di questi. Utilizzeremo, proprio per raccontare questo percorso con la demanio regionale, le mura perimetrali della caserma, grazie alla collaborazione anche con l'Accademia di Belle Arti di Urbino, per raccontare la storia del presente, del passato e del futuro della caserma Paolini. Caserma che vorremmo, come comune di Fano, utilizzare in altro modo e soprattutto non lasciare l'abbandono. A che punto stanno questi colloqui, queste trattative? L'Agenzia del demanio è stata coinvolta in questa iniziativa di valorizzazione della caserma delle mura perimetrali con il progetto Manifest ed è stato un coinvolgimento subito accolto favorevolmente, per il quale ci siamo adoperati per autorizzarlo il prima possibile e adesso trovo avvio. Naturalmente questo è un preludio per una potenziale valorizzazione e riutilizzo dell'intera caserma che è nelle fasi naturalmente iniziali. Quindi il dialogo e le interlocuzioni con il comune sono tuttora in corso, attive, con altre pubbliche amministrazioni e ospichiamo naturalmente che ciò avvenga prima possibile. Gli studenti del suo corso si stanno impegnando per valorizzare la caserma. Che cosa hanno fatto praticamente? Dunque, noi siamo partiti da un progetto didattico dove siamo andati a fare una serie di fotografie dentro gli spazi disponibili a essere visitati e poi queste fotografie dove i studenti hanno cercato particolari suggestioni visive sono state rielaborate digitalmente, sono state preparate per essere poi stampate e a seconda della tipologia di manifesto perché abbiamo il manifesto grande che andrà sul muro che è praticamente tre metri e mezzo per due metri e mezzo, ha delle caratteristiche che magari è diverso dal 70 cento, classico. Il nuovo spazio espositivo che sarà inaugurato sabato prossimo alle ore 18.30 e resterà tale fino al mese di agosto? Sì, fino al 20 di agosto. Poi quasi sicuramente ne partirà un altro, sempre con altrettanti elaborati, che sono 16 i pannelli del muro più un numero da decidere di manifesti che verranno affissi intorno all'area della caserma e del centro di Fano.